Musica Trasporti nuovi treni svolta in Campania, la regione chiude l'accordo con Trenitalia per 40 nuovi treni del valore di 3 miliardi e 600 mila euro. Oggi la firma della convenzione di 15 anni De Luca annuncia si apre una stagione straordinaria per il trasporto pubblico. Maestra picchiata, scuola chiusa per topi. Prima una brutale aggressione a un insegnante da parte della madre di un'alunna della scuola dell'infanzia, poi un'ordinanza di chiusura del plesso a causa dei topi. Accade a Benevento all'interno della scuola San Filippo dell'Istituto Comprensivo del Convitto Nazionale. De Magistris in campo contro la Lega e De Luca. Il sindaco di Napoli si dice pronto a impegnarsi per le prossime regionali con una lista targata De Ma contro il centrodestra a trazione salviniana. Andremo anche da soli se il centrosinistra insiste su De Luca, chiarisce il sindaco. Racket a Pozzuoli scattano gli arresti. Blitz dei carabinieri al mercato ortofrutticolo di Pozzuoli, arrestati dai carabinieri tre uomini del clan camorristico Lungobardi Beneduce, imponevano il pizzo agli ambulanti come regalo per i detenuti. Sidigas, evitato il fallimento, colpo di scena stamane nell'udienza davanti al Tribunale Civile di Avellino. La procura ritira la distanza di fallimento, ma resta il rebus sulla ristrutturazione del debito. Mauriello e De Cesare si sono dimessi dal CDA dell'Avellino Calcio. Stir non ha norma, scoppia la protesta. Battipaia si prepara un nuovo braccio di ferro con provincia e regione. Dal sopralluogo all'impianto dei vigili del fuoco sono emerse diverse criticità, ancora non risolte. i comitati ambientalisti chiedono la chiusura immediata del sito. Buonasera dal TG 696. La regione Campania chiude l'accordo con Trenitalia per 40 nuovi treni del valore di 3 miliardi e mezzo. Oggi la firma della convenzione di 15 anni, De Luca, dice si apre una stagione straordinaria per il trasporto pubblico. Vediamo il servizio. Quella che si annuncia è una vera rivoluzione del sistema di trasporto su rotaie della Campania. In virtù dell'accordo firmato tra regione e ferrovie dello Stato, che vale complessivamente 3,6 miliardi di euro, si apre una stagione di investimenti su tutto il territorio regionale. 700 milioni messi in campo da Palazzo Santa Lucia e 40 nuovi treni, che andranno ad aggiungersi ai 24 treni Jets già comprati. Novità anche per il nodo ferroviario di Piazza Garibaldi e per il Sannio. È veramente una rivoluzione nel trasporto pubblico locale. Abbiamo saldato i debiti che avevamo ereditato cinque anni fa con Trenitalia e ci prepariamo anche a varare insieme con Trenitalia dei grandi progetti di riqualificazione del nodo ferroviario di Piazza Garibaldi. Sapete che abbiamo concluso la gara dell'Eav per Porta Nolana alla stazione, ma Eav, Circo Mesuviana e Trenitalia stiamo elaborando insieme un grande progetto di riqualificazione urbana che darà di Napoli un'immagine pienamente europea e di grande modernità. Parte il lavoro stradale dell'ANAS nel Sannio e stiamo ragionando, Eav e Tecnici di Trenitalia, sul trasferimento della linea a Trenitalia. Sapete che c'è una richiesta nell'area beneventana di passare la linea Benevento-Napoli a Trenitalia. Ovviamente dobbiamo sapere che ci sono problemi strutturali, bisogna fare degli investimenti sulla linea, ma stiamo lavorando con grande determinazione anche su questo punto. La cronaca prima una brutale aggressione a un insegnante da parte della madre di un'alunna della scuola dell'infanzia, poi un'ordinanza di chiusura del plesso della scuola di Benevento all'interno della scuola San Filippo. L'istituto comprensivo del convitto nazionale è accaduto. Sentiamo. Non c'è pace per lo storico edificio scolastico San Filippo di Benevento. Dopo la grave aggressione subita ieri da un insegnante da parte della madre di una piccola alunna, oggi il sindaco Mastella è emanato un'ordinanza di chiusura a causa della presenza dei topi. L'allarme era stato lanciato lunedì dalla responsabile del plesso, dopo che i collaboratori scolastici avevano notato la presenza di escrementi all'interno di alcuni locali. Stop alle lezioni, dunque, fino al 6 dicembre prossimo. Continuano intanto le indagini sull'aggressione all'insegnante della scuola materna. La polizia sta indagando sull'accaduto e non è escluso che nelle prossime ore possa ascoltare la donna che all'interno dell'istituto scolastico si era scagliata contro la maestra di sua figlia. Resta infatti il giallo sulle cause che hanno scatenato la furibonda reazione della donna che ha colpito con schiaffi e calci l'insegnante, rovinata sul pavimento prima dell'intervento, degli altri professori e degli agenti della volante chiamati dai presenti. Una scena orribile che mai dovrebbe essere registrata all'interno di una scuola, mai dovrebbe avere come protagonista una madre, come è ribadito oggi l'assessore all'istruzione del comune di Benevento. Ora questo modo di fare e di certi genitori purtroppo lo abbiamo sperimentato spesso, non soltanto a Benevento, insomma sono casi che si registrano ahimè in tutta Italia, non fanno bene sicuramente al mondo della scuola, non fanno bene alla nostra società e non sono sicuramente risolutivi di problemi che eventualmente vanno invece affrontati con lucidità, con razionalità. Regionali De Magistris si dice pronto a scendere in campo con una lista targata Dema contro il centrodestra a trazione salviniana. Andremo anche da soli se il centrosinistra insiste su De Luca, chiarisce il sindaco. Sentiamo. Mentre il centrodestra attende la benedizione del triunvirato Berlusconi-Salvini-Meloni per l'investitura di Caldoro a candidato presidente delle prossime regionali, a sinistra il quadro si fa ancora più complesso dopo l'uscita del sindaco De Magistris che ha annunciato. Dopo l'epifania presenteremo la lista e credo ci sarà anche l'indicazione di un candidato presidente. Ma questo non vuol dire che andiamo da soli, chiarisce Dema, che sa bene quanto possa essere controproducente la roulette dei numeri fuori dal pianeta Napoli. Da qui la disponibilità al confronto. In Campania bisogna sconfiggere un centrodestra a trazione leghista, ma anche la continuità con De Luca, ha detto il sindaco. E proprio sul nome dell'attuale presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, avverte che se da questo punto di vista ci saranno ambiguità, andremo sicuramente da soli, ma saremo insieme a tanta gente che troverà la nostra proposta più forte e in grado di cambiare la Campania. Nel concludere, De Magistris ha ribadito che in ogni caso Dema ci sarà e sono pronti anche a confrontarsi con altri e nel caso a mettersi insieme. Se si punta su candidature coerenti e credibili, è in grado di raccontare i territori, non solo se stessi e i partiti, o gli schieramenti di appartenenza, ha aggiunto. Il riferimento è ovviamente ai Cinque Stelle, che hanno fatto sapere di non voler chiudere alcun accordo col PD, nel caso in cui Dema propongano il nome di De Luca come candidato. Accomunati dalla stessa avversione per il governatore uscente, Dema e Cinque Stelle potrebbero dunque confluire in una proposta unitaria. Resta da vedere se Di Maio è d'accordo e soprattutto chi sarà il candidato di questo nuovo soggetto giallo-arancione che si profila all'orizzonte. Via la formazione dei navigator in Campania, il ministro Catalfo plaude alla nuova fase e precisa. Il reddito di cittadinanza deve restare una misura attiva per la povertà. Ha aiutato un milione di famiglie. Sentiamo. È partito il percorso dei navigator campani, che fanno parte della fase 2 del reddito di cittadinanza, una fase di accompagnamento all'inserimento lavorativo per i beneficiari. Soddisfatta il ministro del lavoro, Nunzia Catalfo, che ha aperto la giornata di formazione per i navigator nella stazione marittima di Napoli. Inizia il percorso dei navigator campani, quindi fanno parte della fase 2 del reddito, quindi una fase di accompagnamento all'inserimento lavorativo per tutti i beneficiari di reddito. Fa parte del grande investimento nelle politiche attive che noi abbiamo messo in atto con l'assunzione dei navigator, ma anche, non dimentichiamo, con l'assunzione di nuovi operatori per i centri per l'impiego, 11.600, fino al 2021. Al kick-off hanno partecipato gli oltre 400 tutor che hanno appena firmato il contratto con Ampal Servizi dopo un braccio di ferro durato diversi mesi con la regione Campania e sulla misura del reddito nessun dubbio della Catalfo che parla di strumento necessario. Il reddito di cittadinanza è una misura che ha coperto, ha aiutato un milione di famiglie in Italia. Pensate che ha aiutato un milione di famiglie e 600.000 bambini. Quando ci sono però delle persone che approfittano di queste misure, che sono delle misure buone, giuste per i cittadini italiani, allora ovviamente quelle persone si devono vergognare e a quelle persone non deve essere dato e per questo abbiamo i controlli. Però è chiaro che se c'è una misura che funziona e aiuta la gente, aiuta i nostri cittadini italiani, è giusto che venga messa in atto. Racket al mercato ortofrutticolo di Pozzuoli, blitz dei carabinieri. In manette sono finite tre persone ritenute affiliate al clan camorristico. Longobardi e Beneduce imponevano il pizzo agli ambulanti come regalo per i detenuti servizio. I carabinieri dell'uncleo investigativo di Napoli e della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato su disposizione del GIP due persone accusate di tentata estorsione. Si tratta di Fabio Cerrone, 34 anni, ed Enrico Gennaro Jovine, 29, fermati nell'ambito di un'indagine coordinata dalla DDA. Due sono gli episodi che vengono contestati ai due indagati. Il primo è una richiesta estorsiva nei confronti del titolare di un box per il deposito frutta all'interno del mercato ortofrutticolo di Pozzuoli per il recupero credito della somma di 100.000 euro e la contestuale richiesta di pizzo per il sostentamento degli affiliati detenuti in carcere di altri 5.000. Il secondo episodio riguarda una richiesta di una imprecisata somma di denaro avanzata nei confronti dei dipendenti del comune di Pozzuoli con funzioni di vigilanza nel mercato ortofrutticolo. La ricostruzione dei reati contestati rientra in una più ampia attività investigativa avviata a seguito degli arresti del clan Beneduce Longobardi falcidiato nel giugno 2010 dall'arresto di oltre 100 tra esponenti di spicco e affiliati. Nel novembre 2016 un altro provvedimento cautelare ha messo fine alle mire espansionistiche del gruppo criminale retto d'Antonio Ferro attuale collaboratore di giustizia e infine nell'aprile 2017 e nel maggio 2018 il clan è stato definitivamente decapitato rispettivamente con l'arresto del capo clan Gennaro Longobardi e del fratello Ferdinando. Colpo di scena questa mattina nell'udienza davanti al Tribunale Civile di Avellino la procura ritira l'istanza di fallimento della Sidigas ma resta il rebus della ristrutturazione del debito. Sentiamo. La procura di Avellino ritira l'istanza di fallimento per Sidigas l'azienda di distribuzione del gas che dunque non fallirà e procederà a pagare i debiti attraverso il piano di ristrutturazione al momento però non ancora presentato. Soltanto ieri la cessione dell'asset calcio sembrava saltata, oggi invece nuovi spiragli per l'azienda. Meglio non poteva andare, ha detto l'amministratore delegato del gruppo Sidigas, Dario Scalella, al termine dell'udienza che si è tenuta davanti al giudice del Tribunale di Avellino. Ora diamo fiducia alla società, l'azienda del vostro territorio ancora salva. Quindi si riparte da zero in attesa di un nuovo piano di risanamento che servirà a ripianare i debiti e rilanciare la società. Nello stesso giorno della salvezza di Sidigas Scalella ha annunciato un'altra grande novità per l'Avellino Calcio, cioè quella delle dimissioni dell'intero CDA, Gian Andrea De Cesare e Claudio Mauriello che si aggiungono a quelli di Sandro Iuppa di qualche giorno fa. Anche per questa società si riparte da zero con aperture di nuovi scenari per il futuro dell'Avellino Calcio. Una vicenda, quella che ha travolto l'azienda del gas Irpina cominciata a luglio e che ha portato all'istanza fallimentare del procuratore aggiunto Vincenzo Donofrio e sulla Sidigas spende ancora il sequestro di beni per circa 97 milioni di euro. Ora la decisione di oggi del Tribunale apre le porte a un piano di risanamento per rimettere in bonus l'azienda nei confronti dei creditori. Battipaia si prepara un nuovo braccio di ferro con provincia e regione. Dal sopralluogo allo stir dei vigili del fuoco sono emerse diverse criticità. I comitati ambientalisti vanno all'attacco e chiedono la chiusura immediata del sito. Sentiamo. Un mese e mezzo per mettersi in regola ma a distanza di 45 giorni poco nulla è stato fatto e l'ordinanza, firma del presidente della provincia, non convince i comitati ambientalisti che tornano sulle barricate e chiedono l'immediata chiusura dello stir. A Battipaglia il clima è di nuovo infuocato. L'impianto, che ospita tonnellate di rifiuti da tutta la provincia, presenta una serie di criticità messe nero su bianco dai vigili del fuoco dopo l'ultima ispezione. In un'assemblea convocata d'urgenza le associazioni sono tornate a far sentire la propria voce ed hanno chiesto al sindaco Cecilia Francese di firmare l'ordinanza di chiusura dell'impianto sfidando apertamente provincia e regione e aprendo così le porte ad una nuova emergenza di rifiuti sul territorio salernitano. Agli inizi di ottobre c'è stato un sopralluogo dei vigili del fuoco dentro allo stir che ha verificato che sono in una condizione di palese irregolarità. Ci sono 20.000 tonnellate di 17.000 tonnellate di futa dentro un capannone che dovrebbe essere attrezzato con il rilevatore antifumo con le manichette per lo spegnimento automatico. Ci sono 2.500 coballe fuori messe senza le normative antincendio il rispetto delle normative antincendio cioè senza strade taglia fuoco senza vie di fuga insomma una condizione di gravissima irregolarità i vigili del fuga hanno dato 45 giorni per mettersi in regola noi chiediamo visto che il sindaco giustamente ha deciso finalmente di cominciare una guerra contro la provincia e la regione benissimo abbiamo uno strumento in mano abbiamo un cannone gli chiediamo di usarlo perché a questo punto secondo me è nella condizione di poter fare un'ordinanza di chiusura. Ed è scontro anche tra l'amministrazione comunale di Avellino e gli ambientalisti sui fondi per il ristoro dello stir che il sindaco avrebbe distratto a favore delle luminarie il dottore Mazza attacca con quei 100.000 euro avremmo potuto mettere le centraline le centraline festa, replica e dice polemica ad arte sono 7 anni che vengono messe in bilancio sui fondi per il ristoro dello stir di piano d'ardine utilizzati per le luminarie di Natale è polemica ad Avellino la questione sollevata dal consigliere d'opposizione dei 5 Stelle Piccariello è stata ripresa anche dal comitato ambientalista Salviamo la Valle del Sabato una scelta che ci lascia a dir poco perplessi commento il dottor Franco Mazza altro che luci quei soldi potevano essere impiegati per installare le centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria in città si potevano utilizzare era una cifra veramente irrisoria 20-30 mila euro per fare questo monitoraggio della qualità dell'aria nella città con i problemi che abbiamo per un anno intero quindi questo ci lascia veramente perplessi se lo mettiamo insieme al fatto che invitato il comune di Avellino a costituirsi parte civile nel processo per alcuni soggetti rinviati a giudizio perché presunti responsabili di inquinamento la cosa veramente ci lascia senza parole Pronta la replica del sindaco Festa mi meraviglia ascoltare rimostranze successivamente a una riunione che abbiamo tenuto con i riferimenti delle associazioni dove non abbiamo raccolto obiezioni potevano avanzare i loro dubbi in quella sede si parla di ristori ambientali sin dal 2012 questi fondi sono presenti in Milancio da 7 anni in tutto questo tempo nessuno si è mai chiesto come e per cosa siano stati utilizzati lo fanno oggi perché alla guida dell'amministrazione c'è Gianluca Festa qui si fa polemica su 90 mila euro che non credo cambieranno la vita di Piano d'Ardine e di Borgo Ferrovia Gli agenti della Digos della Questura di Benevento su disposizione della Procura Sanita questa mattina hanno fatto tappa presso il comando della Polizia Municipale di Benevento per acquisire fascicoli e software che riguardano migliaia di multe combinate agli automobilisti a Benevento proprio dai vigili urbani nel Mirino il sistema informatico un software per la gestione delle violazioni al codice della strada utilizzato dai vigili urbani sia per sanzionare gli automobilisti che successivamente per gestire l'iter dei verbali a Salerno si temono danni ambientali per la Chiazza Nera nel mare di Santa Teresa in pieno centro città attesa per i risultati dei prelievi di Arpac e Capitaneria di Porto sentiamo il servizio il comune di Salerno vuole vederci chiaro dopo la Chiazza Nera che da giorni sta offrendo un pessimo spettacolo sul litorale di Santa Teresa una situazione di oggettiva preoccupazione per le rigadute ambientali della Melma che interessa buona parte dell'Arenile in pieno centro città dopo le segnalazioni i tecnici dell'Arpac e i militari della Capitaneria di Porto hanno effettuato un sopralluogo e prelevato anche alcuni campioni si attendono ora i risultati per capire cosa abbia determinato il fenomeno e soprattutto se ci siano dei rischi per l'ambiente o la salute anche per individuare eventuali responsabilità a Palazzo di Città il sindaco Enzo Napoli ha chiesto delucidazioni a Salerno Sistemi la società che gestisce il servizio idrico tra tante incertezze quello che sembra sicuro per la fascia tricolore è che non sia un problema legato agli scarichi fognari abbiamo chiesto abbiamo chiesto a Capitaneria di Porto e a Arpac di verificare di che si tratta sono delle cose che esorbitano dalle nostre competenze dirette e noi abbiamo semplicemente la funzione di creare un impulso affinché si venga a capo di questa cosa che è incomprensibile sicuramente ho mandato a Salerno Salerno Energia di verificare gli scarichi fognari mi hanno detto che non c'è assolutamente nessuna relazione sugli scarichi fognari anche per i troppoculmi eventuali per quanto riguarda questo fenomeno inquietante e adesso andiamo all'ospedale Moscati di Avellino dove il primario di rianimazione racconta l'emozione vissuta e il reparto per il risveglio dal coma di un 14enne volato giù dal ponte della Ferriera andiamo ha chiesto della sua mamma stretto un peluche che era stato sistemato sul suo letto e ha sorriso sono i primi gesti del ritorno alla vita del 14enne volato giù dal ponte della Ferriera e i suoi 15 giorni di coma visibilmente emozionato il dottore Angelo Storti ha raccontato intervistato a margine della conferenza stampa di presentazione della rianimazione aperta all'ospedale San Giuseppe Moscati la grande gioia vissuta in reparto per il risveglio dal coma del ragazzino ricoverato in reparto e diventato la piccola mascotta di tutti storie di ordinaria ordinarietà per un reparto che affronta ogni giorno delicatissimi percorsi di leggenza è ricoverato in ortopedia penso che stia bene insomma ogni tanto andiamo a trovarlo è stata sicuramente una grande soddisfazione sia nostra che di tutti insomma riuscire a vedere questo ragazzino uscire dal nostro reparto ed essere portato in reparto in un reparto di leggenza insomma sorridere insomma poi è stata una bella cosa il reparto di rianimazione è simbolo così dell'importanza del rapporto umano da conservare e rafforzare anche e soprattutto in corsia per far uscire il paziente in terapia intensiva dall'isolamento affettivo umanizzare la cura diventa la missione l'unità diretta dal dottore Storti dunque apre le porte ai familiari dei pazienti inaugurando la cosiddetta rianimazione aperta essere meno isolato avere di fianco i parenti rende il nostro paziente sicuramente meno stressato avrà meno problemi d'ansia la possibilità di avere un aumento delle infezioni è sicuramente se è stato visto che è inesistente soddisfatto il manager del Moscati Renato Pizzuti questo significa in pratica continuare questo percorso di miglioramento e continuare soprattutto la fase di umanizzazione delle cure all'interno dell'ospedale penso che questo a fronte dei risultati che sono stati ottenuti dalla regione complessivamente negli ultimi tenti tanto che siamo arrivati alla fine del commissariamento penso che gli ulteriori passi vanno fatto proprio in questa direzione a Benevento del nastro del nastro della sede inaugurata oggi per la scuola dell'infanzia che sarà ospitata in alcuni locali a Tigui alla parrocchia di San Gennaro l'istituto di pace vecchia infatti nei primi giorni di agosto è stato dichiarato non rispondente alla normativa sismica e dunque interdetto ad ospitare le lezioni ora però le nuove soluzioni e un piano per tutta l'edilizia scolastica cittadina è il primo dei due trasferimenti l'altro lo faremo venerdì per la scuola primaria a Capodimonte dove avrete modo di vedere abbiamo ristrutturato in maniera più che degna gli ambienti anche con un investimento importante per il comune di Benevento è un anno difficile questo per le scuole però noi contiamo che di qui a qualche anno si possa dire che è stato l'anno zero per la rinascita dell'edilizia scolastica beneventana se non si aveva il coraggio di fare quello che il sindaco ci ha fatto fare cioè la verifica sismica di tutti i nostri edifici scolastici probabilmente saremmo stati ancora lì con i rischi che ciò comportava ci troviamo all'improvvisa a constatare queste cose nonostante la programmazione che stiamo facendo io spero che la mia amministrazione di portare avanti poi che verrà dopo vedrà un piano di investimenti per il settore dell'edilizia scolastica che eviterà questi problemi valorizzare il grande patrimonio delle fontane nelle aree interne antichi monumenti dai quali in molti casi non sgorga più acqua la sfida parte da Ariano Irpino sentiamo il servizio le fontane come biglietto da visita della città monumenti che hanno segnato la storia e che necessitano di essere riscoperti e valorizzati ci ha pensato l'associazione Marathon Club di Ariano Irpino a riportare inviti al suo antico splendore una delle fontane presenti nella villa comunale desiderio del vescovo Sergio Melillo reattivare anche quella della maddalena che da anni non sgorga più acqua anche questa che sicuramente non è una delle fontane che stava sulla strada reggia però è una fontana che probabilmente stava nel centro di Ariano fu ricollocata qui per la costruzione della villa alla metà dell'ottocento e molto probabilmente è metà di quella originale l'altra metà non sappiamo possiamo immaginare sia dietro ma la certezza oppure è stata distrutta o ricollocata altrove abbiamo mantenuto una promessa una promessa con l'amministrazione comunale che ci ha concesso la possibilità di effettuare questi lavori con i nostri soci che da dieci anni si impegnano per la dodici ore non stop e soprattutto anche nei riguardi di quanti tra gli arianesi e i turisti nel mese di agosto scorso ci hanno dato la fiducia donando il loro piccolo loro grande contributo questo è il luogo dove noi atleti della Marathon Club ci alleniamo veniamo a correre ci incontriamo socializziamo quindi è anche un gesto che ha un simbolismo importante per noi quello di permetterci di ritrovarci in un posto dove abbiamo impegnato il nostro tempo e le nostre forze era l'ultima notizia il TG termina qui grazie di averci seguito vi auguro una buona serata grazie a tutti Grazie a tutti.